Il Best Label Print, premio per la migliore azienda nel settore delle etichette. Lo sponsor è UPM Raflatac e, faccio salire, Flavio Aragazzoni, il Sales Director di UPM. Sales Director, direttore delle vendite. Aragazzini. A cosa ho detto? Aragazzini, giusto. Ho sbagliato a dire il nome, no? Grazie. Ma ogni busto ha un colore diverso. Che meraviglia. E vince il premio Best Label Printer. Eurostampa. Ritira il premio Gian Mario Cillario. Buonasera, complimenti. Complimenti a lei. Le leggo la motivazione. Che belle le immagini che passavano. 40 anni fa, solo una piccola azienda familiare. Ora, ecco un gruppo che opera in cinque continenti, con uno stabilimento appena inaugurato nel novembre 2011 a Cincinnati. Ah, però. Tutto frutto di investimenti costanti in tecnologie di ultima generazione, personalizzate e uniche nel loro genere, destinate alla produzione di etichette. Investimenti non solo economici, perché tanta è stata la sensibilità alla formazione, l'attenzione al trattamento dei rifiuti cartacei e più di ogni altra cosa, la passione. Complimenti. 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 Complimenti.